Stop al trasferimento del polo chimico nel porto di Genova. La regione rileva alla società superba incongruenze progettuali sulla dispersione del gas, suolo e acque. 15 giorni per le controdeduzioni, pena l'archiviazione della domanda. Accordo tra le istituzioni europee su carburanti marittimi. Le navi dovranno ridurre progressivamente dal 2 all'80% le emissioni di gas serra tra il 2025 e il 2050. Giorgia Meloni a Bruxelles per il consiglio UE. Net Zero, fondo sovrano e patto di stabilità, temi caldi per l'Italia. Avis Budget Group, leader nel noleggio di auto e furgoni, entra in ALIS. Il presidente Grimaldi, cresce il nostro impegno per una mobilità sempre più sostenibile. Nicola Porro conduce la puntata di stasera di Alex Channel Talk, focus sulla sinergia tra imprese e istituzioni per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese.